Se dico, con quella felpa lì non posso non chiudere, chiedendoti, ma se non ricordo male tu rimane uno dei pochi allegriani, giusto? Sì, e tutti mi fanno... E no, perché... No, 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 secondo me è... È sotto... È un vanto, no? È un vanto, no? È difficile le cause regali della Juventus, non c'è Pogba, non c'è Fagioli, molto tepulento, e poi anche la pandemia, insomma, è riuscito a tenere insieme la squadra e secondo me se lo merito un altro anno. Quindi io, se me lo chiedi, se vuoi subire la Juventus, lotterei un altro anno, infatti c'è un contratto ancora per un anno. Anche perché in questo momento un altro allenatore, i vari che mi piacciono, in questo momento secondo me non è così determinante. Poi io, non sono un allenatore, quindi parlo del tifoso.